Siamo arrivati, da tutti! Mamma, mi aiuta a fare il programma? E' che ci è giunta poco fa la notizia di una terribile tragedia che si è consumata stamattina nel quartiere Raffaele. Il nuovo di 37 anni, Giafanto Cortis e i suoi figli Giuseppe e Monica, di 9-11 anni, sono stati trovati morti nella loro abitazione. E' stata rivenuta una boccetta contenente arsenico nel cestino del rifiuto. I figli sono giunti grazie alla segnalazione di un vicino che ha visto la porta di casa aperta e vi si è introdotto, facendo la terribile scoperta. A presto, a presto, a presto. A presto, a presto. Come sei il mio nome? Se poi mai vivevi un'esistenza quieta, ma non avevi le forze per sopportarla, ora ti attendo un futuro terribile. Lo sguardo impietoso della gente e vuoi affrontarlo comunque. E' vero, mi sento più forte. Non so se ce lo farò. Vedrai che uscendo da qui lasciare cadere gli ultimi dubbi. Ora vai. A presto. A presto. A presto. A presto.